13 giugno 1979 muore a 34 anni il musicista greco Demetrio Stratos nato ad Alessandria d'Egitto nel 1945 si trasferisce a Milano nel 1962 dove si unisce poco dopo come pianista e voce solista al gruppo dei ribelli con i quali resterà fino al 1970 e con cui registrerà svariati 45 giri di successo come Pugni Chiusi, Chi Mi Aiuterà e Oh Darling dopo l'esperienza dei ribelli fonda il gruppo degli Area che si affermerà in Italia e all'estero a lato della discografia ufficiale Stratos coltiva lo studio della voce come strumento seguendo l'esempio dei vocalist più avanzati della musica nero americana riuscendo a raggiungere risultati che rimangono ancora ineguagliati nel 1978 lascia gli Area per dedicarsi esclusivamente alla ricerca vocale più che altro occidentale